Siamo adatto Gesù Cristo, il Vangelo di oggi ci ripropone la guarigione e liberazione di una donna che Satana tiene ma legata da 18 anni. La questione ricade su quella del sabato, la norma secondo la quale non bisogna lavorare per dare gloria a Dio. L'interpretazione, come sappiamo, stretta ed erronea, nonché maliziosa, del sabato è un pretesto, uno strumento che questi dottori della religione usano per poter impedire che Gesù faccia il bene e si manifesti come Messia, come figlio di Dio che opera guarigioni e liberazioni, indicando che così il dito di Dio è all'opera ed è giunto dunque sulla terra, vicino al suo popolo. Si tratta dunque di un impedimento del bene utilizzando la stessa legge di Dio. Vediamo come le norme e le leggi possono essere utilizzate in modo malizioso e apparentemente queste vengono in qualche modo osservate, in realtà sono strumentalizzate. Lo spirito della legge è l'amor di Dio, la gloria di Dio padre e soprattutto quello che egli vuole, cioè l'uomo vivente, la liberazione dell'uomo dal peccato, la salvezza delle anime. Dunque, non è solamente una questione di ciò che Gesù opera in giorno di sabato, ma è una questione che è messa sul banco, che è quella proprio della salvezza dell'uomo o meno da parte di Dio. La questione è, può l'uomo in nome di Dio impedire che attraverso i suoi uomini Dio compia la salvezza degli uomini stessi? Si può pensare che Dio voglia impedire che la sua Chiesa benedica, che la sua Chiesa liberi, che la sua Chiesa guarisca, che la sua Chiesa salvi le anime. Se tutto questo, anche oggi, potesse essere o può essere utilizzato per impedire il bene, allora la risposta è una sola. Nessuno può impedire a Dio di guarire il suo popolo, di liberarlo dal male, di salvargli l'anima. Non si può, in nome della legge di Dio, impedire che le anime accedano alla confessione sacramentale e individuale. In nome di, non si sa quale rispetto o usanza o altro. Non si può, in nome di Dio, impedire che la Chiesa di Dio liberi dal demonio i suoi figli. Perché il perdono dei peccati è il mezzo sacramentale, il sacramento, che la Chiesa usa per liberare dal peccato, dunque, dalla schiavitù del demonio i suoi figli. E così, gli esorcismi o le preghiere di liberazione sono quei sacramentali che la Chiesa ha per poter liberare da un potere diretto e più forte del demonio, che può essere in virtù del peccato della persona o anche del peccato di altri, perché ci sono molte persone che sono vittime senza che abbiano commesso delle colpe particolari. Per la gloria di Dio viene dunque liberato l'uomo. Nessun potere, dunque, può impedire che Dio compia questa opera fondamentale che, attraverso la liberazione e la guarigione, esplica il segno della guarigione anche dell'anima. Perché il potere che il demonio ha sull'uomo, quello di influenzare la mente e di spingere il peccato e di imprigionarlo con il peccato stesso, ha una manifestazione, delle manifestazioni particolari. Combattendolo in tutti i modi, si combatte sempre il male. Liberando dal potere del demonio le persone, si introducono le persone nel regno di Dio. Liberandole dal peccato, insegnando ciò che è veramente peccato, lei si libera, si illumina la mente. Liberandole dal peccato per mezzo del sacramento della confessione, si opre esattamente a quello che si fa con un esorcismo e una preghiera di liberazione che libera dagli influssi del demonio la mente e il corpo delle persone, tormentate a causa del male in generale, del male che è diffuso sulla terra grazie al peccato di tutti gli uomini. La Chiesa ha le chiavi, le chiavi per poter sciogliere e legare. Legare il demonio, sciogliere dai lacci del demonio. Ha la chiave per poter entrare nel regno dei Cieli. Sono le chiavi date a Pietro. Nessun uomo, anche nella Chiesa, può dunque impedire questo, perché è la missione stessa di Cristo e della sua Chiesa. impedire questo è grave peccato di ostruzione a quello che è la salvezza dell'uomo mediante l'uomo, cioè l'uomo già salvato, cioè la Chiesa. La salvezza dell'uomo mediante il Dio fatto uomo che continua nel tempo e nello spazio la sua azione mediante la sua Chiesa. Questa è la grande questione. che qui Gesù suscita, combattono contro di Lui in questo modo e in questo modo i nemici di Dio continuano a combattere. E noi abbiamo la mente illuminata da Cristo mediante il Battesimo e distinguiamo chiaramente ciò che è male, ciò che è bene, perché quello che sono i comandamenti di Dio e lo Spirito Santo, che noi ce lo dicono e abbiamo i mezzi per poter scegliere e combattere ed essere strumenti di salvezza per noi e per gli altri. Chi può dunque impedire questo? con quale autorità? Gesù dice io annuncerò il Vangelo e libererò dal demonio il mondo oggi, domani e dopo domani finché mi sarà concesso Dio pari. E questo è ciò che egli ha lasciato alla sua Chiesa. Dio vi benedica Dio pari. E questo è un'esercizio. Dio pari. è un'esercizio. Grazie a tutti.